ciao a tutti bentornati sul mio canale quest'oggi giro un video che è tanto che voglio girare però come avrete notato sul mio canale sono parecchio in ritardo con i video appena qualche settimana fa ho postato i video di Natale di fatti in questo video mi mostrerò un regalino che ho ricevuto in occasione del Natale da alcune carissime amiche creative della provincia di Napoli e poi altri regalini che ho ricevuto sempre da amiche e colleghe creative con le quali si è instaurato una vera e propria amicizia un rapporto di stima e affetto reciproco davvero sincero e io sono contentissima di questo leggo con molte ragazze e questo mi fa molto molto piacere inoltre a fine video ci sarà un piccolo spezzone di video dedicato a uno swap che ho realizzato con una ragazza Sonia in arte viola bijou che mi ha contattato su instagram mi ha chiesto di sbappare sono stata molto contenta di fare questo scambio questo scambio con lei è una ragazza che mi segue tanto molto molto carina vando alle chiacchiere come al solito vi voglio mostrare la prima meraviglia che non ha nulla a che vedere con l'aspetto perlinoso per quanto indirettamente ce l'ha questa scatola mi è stata regalata dalle mie cari amiche di Napoli che sono Maria Doria, Francesca Iengo e Elga Ciccarello qualcuno le conoscerà, sono creative molto brave che si occupano di diverse tecniche creative dal soutache alla tessitura alla resina eccetera sono ormai un po' di anni che ci siamo incontrate grazie appunto al nostro hobby per la creatività e per l'handmade appunto abbiamo installato un bellissimo rapporto di amicizia questo qui è un regalo che loro hanno voluto farmi questo Natale ed è uno spettacolo io adoro il profumo il sì di Giorgio Armani non metti a fuoco vabbè Giorgio Armani lo conosciamo adoro il sì di Giorgio Armani come profumo è capitato spesso nelle uscite insieme che andassi tipo da Sephora o qualche altra profumeria e me ne svuotassi una bottiglietta una boccetta intera addosso davvero cioè me lo spruzzo comunque è un profumo che adoro e quindi loro sapendo questa cosa mi hanno regalato questo profumo ma soprattutto mi hanno regalato una pochette meravigliosa dovete sapere che io ho una passione per le borse ecco perché mi chiamo Borzi poi un giorno ve lo spiegherò io sono una collezione a borse e borsettine questo è il bigliettino dolcissimo che mi hanno dedicato e questa è la meraviglia che mi hanno regalato è una pochette elegantissima raffinatissima che io amo e che non vedo l'ora di indossare so già in quale occasione la dovrò indossare è uno splendido colore nero con il logo di Armani e all'interno la meraviglia cioè il profumazzo un formato da borsa del mio profumo preferito di uno dei miei profumi preferiti e io ringrazio le mie amiche per questo regalo sono state gentilissime a farmi questo regalo non dovevano però mi è piaciuto tantissimo e le ringrazio davvero davvero di cuore non è un regalo perlinoso ma io ci tengo a ringraziare per me riguarda comunque la sfera del mio hobby della mia creatività del mio canale e di Borzi quindi grazie ragazze dopo questo regalino vi mostro invece i regalini che anche un po' di mesetti fa ci siamo scambiati io ed Eliana Paradiso abbiamo fatto una sorta di non di swap ci siamo proprio scambiati dei regali vi mostro subito quello che mi ha inviato mi ha inviato un po' di materiale creativo e le creazioni sono queste qui comincio comincio col mostrarvi una dolla meravigliosa che Eli ha realizzato al chiacchierino allora ditemi se non è fantastico è fantastica è uno spettacolo è meravigliosa elegantissima guardate che meraviglia con il chiacchierino decorata per la barocca la mia passione insomma ci ha dedicato tantissimo impegno e l'ha regalata a me io non posso che ringraziarla per questo perché è un fantastico pezzo unico che mi ha regalato ha voluto donare a me io sono contentissima grazie Eliana naturalmente delle persone che cito se hanno pagine facebook o canali youtube io le metto nell'infobox e andate a seguire le mie amiche poi sempre da parte di Eliana ho ricevuto i suoi questi meravigliosi orecchini questi qui sono uno spettacolo di questi vi metto il tutorial nell'infobox adesso mi sfugge il nome sono uno spettacolo come al solito mi cascano e sono meravigliosi indossati tantissime volte vi amo vi adoro e anche per questo ringrazio Eliana che ha voluto riservarmi questo bellissimo regalo e non finisce qui siccome lei è eccezionale nel chiacchierino e basta che io dica mamma che belli questi lei me li regala infatti mi ha regalato due bellissimi paio di orecchini al chiacchierino e sono questi qui allora questo è stupendo sono leggerissimi guardate che fattura perfetti e mi piacciono tantissimo perché li ho immaginati l'estate sempre con col bianco con i jeans insomma li ho immaginati e mi sono piaciuti io poi immagino spesso le cose e mi piacciono mi faccio i film come si dice a Napoli e mi ha regalato questi orecchini bellissimi e un altro paio ancora più belli strabelli bellissimi e sono questi qui anche questi realizzati in una fattura fantastica e sono questi qui belli bellissimi stupendi non sono una meraviglia e li riprendi presto a lavorare che manchi e sei bravissima noi abbiamo un rapporto proprio speciale siamo amiche ci sentiamo tutti i giorni e ci siamo conosciute per per un tappetino pensate e ormai sono tanti anni che quattro anni che ci sentiamo tutti i giorni e siamo davvero diventate amiche e ci confidiamo insomma e questi qui sono tutti i regalini che mi ha inviato Eliana e sono stra belli 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 e infine vi voglio mostrare un altro un altro regalino che ho ricevuto eccolo non lo trovavo allora qualche tempo fa ho comprato da Creanna Anna di Bartolomeo un'altra ragazza che io alla quale voglio davvero tanto bene una ragazza gentilissima generosissima con la quale sono in debito e lei lo sa e che dalla quale ho comprato un po' di tempo fa una fustella per la Big Shot e lei me l'ha l'ho comprata l'ho pagata me l'ha spedita e naturalmente per non smentire la sua generosità enorme mi ha regalato un bel sacchetto di cabochon in resina che realizza lei stessa anche di Anna di Bartolomeo metto il link nell'info box alla sua pagina che si chiama appunto Creanna ve li mostro sono bellissimi questo qui bellissimo un quadrotto questo qui guardate sicuramente ha pensato a me per questa meraviglia col tema musicale questa è un'altra coppia questo qui molto bello glitteroso ultimamente impazza la moda della resina vorrei imparare anch'io questa bellissima coppia di gocce con scaglie di madre perla e micro sfere dorate molto bello questa poi uguale a questa il cabo rotondo da 30 mm bellissimo per farci una parure e le meraviglie shabby chic style queste qui bellissime sono meravigliosi troppo troppo belli guardate qui con la chiave all'interno bellissime e queste sono tutte le meraviglie che ho ricevuto e niente ci tenevo a rendere giustizia comunque alla gentilezza di queste persone di queste mie amiche e quindi ho girato questo piccolo video come vi dicevo subito dopo questo spezzone dei regalini ho detto anche la borsa subito questo spezzone dei regalini c'è un piccolo spezzone di video dedicato allo swap che ho fatto con Viola Bijou Viola Bijou Love questo è il nome completo del profilo della ragazza che mi ha contattato su Instagram sul mio profilo Instagram Bordi Creazione andate a cercarmi chi non fosse ancora un follower e niente mi ha contattato mi ha detto che mi seguiva tantissimo anche su YouTube anche lei ha un canale YouTube sta iniziando a fare dei piccoli video poi vi metto il link nell'info box naturalmente e mi ha chiesto di svuappare io ero straimpegnata però non ho potuto dire di no perché me l'ha chiesto con tanta dolcezza è stata così carina che non ho potuto dirle di no in contemporanea tra l'altro poi ho svuappato anche con un'altra un'altra ragazza però a lei dedicherò un video a parte allora vi mostro quello che mi ha inviato le creazioni in primis allora lei non si occupa di tessitura ma sta iniziando ad occuparsi di tessitura mi ha inviato delle creazioni che fa in fimo tra cui questa collanina molto molto carina fiocchettino cuoricino fatto in fimo molto carino sono anni che non tocco il fimo questo chums da borsa è molto molto carino delizioso è proprio il caso di dirlo col cuoricino made with love davvero delizioso poi mi ha inviato questi orecchini molto carini sono delle filigrane che penso lei abbia decorato con gli strass e sono molto 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 fini molto carini mi piacciono molto con questi bei perni leggerissimi bianco una bellissima colorazione di bianco e poi mi ha inviato due piccole creazioni in feltro l'orsetto e la coccinella molto carina non le apro perché la busta fa rumoracci e infine poi mi ha inviato due bei pacchetto azzi pieni pieni di materiale creativo che adesso vi mostro un po' per volta lo abbiamo insieme non li avevo preparati ecco qui allora ci sono perle cristal in plastica sono nuove di plastica perle cerate da 8 mm queste sono da 10 queste da 8 sempre utilissime le perle cerate adoro belle le stardas utilissime infatti già ne ho utilizzata qualcuna che mi è proprio servita mi piace tantissimo quindi grazie Viola anzi Sonia per questo perché lei in realtà si chiama Sonia delle rose in resina molto belle in lucite anzi beh che bei colori molto molto carine una bustina di stelline di queste neanche in dimensioni più piccole sono molto carine di solito faccio fare braccialetti alle bambine petali questi sono in lucite tantissimi petali molto carini bisogna inventarsi qualcosa per questi delle splendide perle sono in vetro precisamente non so dire se sia una pietra dura naturale ma mi sembrano in vetro dipinte da 8 mm molto molto bella questa colorazione guardate e questa meraviglia queste perle credo che siano fatte in primo davvero bellissime queste sono quelle che si fanno con le cane immagino mamma mia che belle guardate questa animaliere stupende grazie grazie Sonia quest'altro pacchettino invece pacchettino invece contiene della minuteria allora vi mostro gli anellini in 4 colorazioni utilissime questa misura più grande questa più piccina bronzo e argento e queste fanno sempre gula sono sempre utilissime quindi grazie grazie mille coppettine in argento queste qui da un centimetro monachelle queste qui sono quelle che sto utilizzando di più queste qui diciamo grigio argento ecco dorate fermacorde anche questi sempre utilissimi non se ne hanno mai abbastanza qui che ci sono delle monachelle con dei chums molto carini tour e fell e ancora e infine questi qui anche questi altri chums sempre legati a delle monachelle quindi come se fossero dei mini paia di orecchini con cucchiaio e stellina e poi questa bustona di cipollotti grandi più grandi molto belli che bei colori e niente questo è lo swap che ho fatto con Viola anche con lei era un ritardissimo quindi l'ho accodato al mini video di prima e niente io spero che il video vi sia piaciuto che io non abbia chiacchierato tantissimo come sempre e che insomma mi continuo da seguire perché davvero questa volta è vero a breve ci sarà un bel tutorial sul mio canale che alcuni di voi mi hanno richiesto quindi rimanete sintonizzati e alla prossima un bacio ciao 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 grazie a tutte le mie amiche creative e regalatemi un pollice in su ciao ciao